Non c'è niente da ridere, perché noi questa cosa in famiglia la stiamo soffrendo tantissimo il mio nipote è uscito veramente una persona così perché frequenta amici così veramente ci stiamo provando in tutti i modi ma ci vuole solo un miracolo per salvare Ma ci ha riederato, no 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 ha detto un miracolo No, sempre io, sempre io ma sempre a me avete molto a lui ma avete, sai quale? qual'è? Non c'è più rispetto, non c'è più rispetto, non c'è più rispetto, ma me ne succede un altro giorno. Tipo? Però la sto passando di qua con mio cugino, è sempre mio, ci piace il vino. Ma il suo cugino chi? San Crispino. Si unge con il Lazzaro e poi non lo muoio di chi camina. Esatto! Allora... E' così, tutta in mano. Lo so, lo so, lo so. Ci si cuci, ma tu non è che puoi fare sta vita. Dici, ma io bevevo solo acqua, poi tu adesso puoi messi in vino e mi consumai. Poverito cacuifiani! Da sera c'era un pisci, chi mi vuoi bevere la Coca-Cola? Avete saputo qual è? Qual è? Concechi un rispetto! La compagnia! Bravo Gesù! Ha ragione!